Eccoci qui con Fabrizio Paghera, particolarmente nervoso, arrabbiato per questa sconfitta. Fabrizio, mettiamo da parte gli errori arbitrali che hanno condizionato la gara, però questo Avellino continua a deludere, continua a deludere perché è incapace di costruire gioco, è incapace di offendere, è incapace di creare pericoli. Perché? Ma innanzitutto non ci dobbiamo attaccare agli errori arbitrali perché l'arbitro ha fatto un errore al ventesimo. C'era tutta una partita per recuperare e non è l'Avellino a toccarsi a queste cose. È un Avellino che sta facendo fatica, è inutile nasconderlo e penso che oggi la prestazione a livello nervoso ci sia pure stata, anche se sono stati molto confusionari e adesso c'è da parlare poco, c'è da stare uniti e cercare di andare fuori casa a fare qualche punto perché altrimenti è dura. Questa reazione, come dicevi tu, si è vista a tratti, anche sotto questo punto di vista crescono i campanelli d'allarme in casa Bianco Verde, anche perché se ci metti un pizzico di cattiveria però il risultato non lo ottieni, due sono le cose. O questa squadra tecnicamente non è adeguata alla Serie B, oppure sono le scelte tattiche di mister Toscano che non sono adeguate a questa squadra? No, no, al di là delle scelte tattiche che non è compito dei giocatori, io penso che bisogna capire tutti quanti una cosa quest'anno, che dobbiamo stare tutti uniti, tutta l'Irpinia, tutto Avellino perché quest'anno è un campionato che c'è da soffrire fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Forse questo non l'abbiamo ancora capito, forse neanche noi giocatori, ma lo dobbiamo capire tutto l'ambiente. Purtroppo quest'anno è un anno difficile, noi siamo in difficoltà, chiediamo anche l'aiuto sia a vostro che a dei tifosi che oggi dall'inizio alla fine hanno cantato per noi e dopo alla fine è legittimo che possano contestare. Però se ci vogliamo tenere stretta questa Serie B c'è da stare veramente tutti insieme e mettere da parte un po' di dissapori che uno può avere con la dirigenza, con il tecnico, con i giocatori perché altrimenti non si fa il bene dell'Avellino e in questo momento l'unica cosa che conta è mantenere la Serie B, il resto sono chiacchiere per me. È un grido d'aiuto il tuo Fabrizio? Non è un grido d'aiuto, è capire dove è il campionato che dobbiamo fare quest'anno. Certi anni a quest'ora l'Avellino magari avrà 30 punti e si poteva guardare, oggi no, oggi dobbiamo guardare che è l'ultima giornata, dobbiamo sperare di essere in colso per salvarci e ci dobbiamo salvare l'ultima giornata in casa con Latina, questo deve essere il nostro obiettivo. Dopo se viene qualcos'altro è meglio, ma se non entriamo in quest'ottica tutti quanti, magari questa squadra può avere anche dei limiti, può essere fragile e va aiutata. Penso che questi ragazzi, io posso solo dire che ci stanno mettendo tutto, non è facile adesso giocare qui, però noi fino alla fine faremo tutto quello che possiamo e io spero che tutti Avellino riescano a capire che questo momento è stringersi attorno a noi perché dobbiamo fare i punti, adesso la situazione non è facile. Quindi tu pensi che non sia un problema tecnico? Se io iniziassi a fare questi ragionamenti, non farei giocatore, questi sono ragionamenti che aspettano alla società, noi se c'è misto Toscano, seguiamo misto Toscano fino alla morte, quello è chiaro, se arriva un altro, seguiamo un altro, noi non giochiamo né per Toscano né per Lavellino, scusi, né per Taccone, né per Lavellino, Lavellino si deve salvare, il resto a me non mi interessa. In studio Leonardo Davenia Ciao Fabrizio, buonasera, la mia domanda è unica, visto che in questa settimana se ne sono dette davvero tante sul conto di mister Toscano, voglio sapere se era vero che voi avevate fatto fronte comune per salvare la panchina di Toscano. Ma io quando parlo che quest'anno dobbiamo rimanere tutti uniti, mi riferisco pure al fatto che si leggono sempre tante cose, si legge che magari l'anno scorso noi abbiamo fatto fuori Tesser, quest'anno abbiamo salvato Toscano, sono tutte cose che non fanno bene perché noi non abbiamo né il potere di farlo, c'è una società che decide, le decisioni riprende sempre la società, così come Amistad e Tesser volevano tutti bene, l'abbiamo dimostrato quando è tornato, noi giocheremo Toscano fino all'ultimo giorno che sarà il nostro allenatore, quindi il resto sono tutte chiacchiere, c'è una società, c'è gente pagata per decidere, noi dobbiamo pensare a giocare altrimenti tutti questi pensieri ce li portiamo in campo e non va bene.